Salve a tutti ragazzi, questo video doveva uscire tipo, era fighissimo, il countdown e tutto, mi crasha tutto, vabbè Siamo nelle votazioni dei Toti, ok, è la prima volta che ve le porto anche perché l'anno scorso quando era il momento non portavo FIFA E vabbè le squadre come ogni anno sono quasi ovvie, tipo quelle 2-3 posizioni, beh bisogna vedere, vabbè il dodicesimo mi pare che non si può votare Quindi so già chi lasciare fuori che sicuramente uscirà dopo, mi sono già studiato il tutto Allora qui scommetto che ci sarà Emiliano Martinez, eccolo qui, però io non lo prenderò mai perché mi sta antipatico E poi sinceramente secondo me se lo merita di più Courtois C'è Emiliano Martinez, vabbè campione del mondo, sì, Courtois campione d'Europa, mondiale un po' uno schifo C'è non per lui ma in generale per il Belgio che è uscito a gironi E aspettate stavo pensando una cosa, Biraghi, mamma mia Biraghi E allora partiamo con la difesa Eh non lo so, lo sapete che è la parte in cui sono più indeciso A Kimi, dai a Kimi mi sa che lo devo mettere Ma l'anno scorso è uscito a Kimi Todi, vero? Sì Allora se non trovo nessun altro metto Teo, che cosa ho fatto? Se non trovo proprio nessun altro da mettere metto Teo Come altro terzino Allora poi c'è Romero, campione del mondo anche lui E Aspettate ma non c'è Ok mi è venuto in mente uno da mettere, dov'è? Non c'è? Mi spiegate com'è possibile che non c'è Rudiger? Ma Aspettate Rudi C'è Non penso sia centro Perché non c'è Rudiger? Questo gioco è mattia e ve lo giuro Perché non c'è Rudiger? Se lo merita Vabbè intanto su Teo lo metto Non so veramente chi mettere, ve lo giuro Io sui centrali sono indeciso Cioè nel senso, sono indecisissimo Non c'è Rudiger Vabbè io vi metto tipo Guardiol per il mondiale Non peraltro anche perché non so la stagione cosa ha fatto Non ho seguito l'Ipsia O Guardiol in generale Ma Cioè ragazzi ci sono rimasto Non è stato convocato Rudiger No vabbè dai Se lo meritava diciamo Vabbè dai E chi metto? Eh si fa difficile la scelta Otamendi non so se metterlo sinceramente Cioè Otamendi sì il mondiale Io metterei Tuomori a questo punto Cioè nel senso Qui a Cugna forse potrei Metto Cugna per il mondiale sì ma Beh Non è stato neanche il migliore Però Va messo Cioè se c'era Rudiger mi rendeva le cose molto più facili Cioè guardate che squadra brutta che sta uscendo Vabbè Guardiol non uscirà mai Però se Dai si vuole la Cugna neanche usciranno Cioè Rudiger perché non c'è Spero che lo facciano uscire in qualche modo Vabbè lasciamo perdere Allora i centrocampisti Vabbè alcuni sono hobby Oddio Belli eh aspettate Oddio Bellingham Lo vuoi aspettare Pian di tutto metto dei Bruin Che come ogni anno Cioè non può mancare O Pedri anche eh Sono forti questi Brozovic anche Cioè questi qui se sono qui se lo meritano insomma Vabbè Mordri Modric Dopo quella stagione Poi metterei un altro del Real Madrid Io Bo Cross Chi potrei mettere Non saprei Tonali Casemiro Ah Casemiro però ha vinto la Champions anche lui vero Orello United Doa A Nenzo Fernandez Rabbio anche se lo merita Sì Però O meglio Si merita di essere Nella nomination Cioè il Todi ora Non ci spingiamo avanti Se vincere la Francia Aveva messo il suo Mene E non so veramente Chi mettere Ah ma Mene Mene è contato come Centrocampista E vabbè Dai Non l'avevo visto È facile È così Cioè Mene Tutta la vita Secondo al pallone d'oro Mi pare Terzo Vabbè Allora Allora Qui si Di cui vorrei mettere tutti Allora vabbè Benzema è indiscusso Cioè Si mette Si Lo voteranno tutti di sicuro Però Non si può non mettere Allora Leao anche Cioè Neymar non lo so In realtà Però Leao si Vabbè Forse Anche Neymar Dai Gakpo Oland Io lo voto Nessuno mi costingerà A non votare Oland E ora L'ultimo Chi sarà Mbappé O Messi Cioè Ma se sono in votazione Aspettare questo gioco Già che non mi ha messo Lutiger Eh Lewandowski Anche Però Sono troppi Ok Mbappé Messi Vabbè Vediamo Dunque Anche Cioè Salah E Salah Anche Tutti Anche Cioè Sto dicendo a tutti Anche Vabbè Io voto Terrier No Allora Mbappé O Mbappé Proprio a fianco Sono Mbappé O Messi Allora Messi Lo voteranno Tutti Di sicuro Ma io Metterei Salah Sinceramente Però Dai Abbiamo messo Giamanè E Allora Lo sapete Che vi dico Visto Visto Che Messi Lo votano Tutti Perché Si Di sicuro Lo votano Tutti Come Dodicesimo Nel Pick Io Mi Metto Un Bappé Cioè Do per Scontato Che Vabbè A parte Che le Votazioni Mie Cioè Cioè A parte Le votazioni Mie Una Su Un Miliardo Non So Quanto Possa Contare Però Vabbè Messi Sono Sicuro Che Esce Di sicuro Ora Vorrei dare Holland Deve uscire Assolutamente E Vabbè Loro Cioè Assolutamente Cioè Vorrei Un Rüdiger Qui Però Non so Mi sono Fizzato Con Rüdiger Secondo me Ha fatto Un'ottima Stagione Guardi L'ho Messo Per il Mondiale La difesa Un po' Da rivedere Sinceramente Nella Porta Ne vado Fiero Perché Mi Stanti Ipatico In una Maniera Assurda Emiliano Martinez Vabbè Lasciamo Stare E Qui Messi O Mbappé Facciamo Finta Che Li Ho Botati Tutte Due Tanto Escono Tutte Due Probabilmente Sarà Questa La Squadra E Detto Questo Io Probabilmente Domani Con un Prossimo Video Questa Qui Era La Mia Squadra Dei Toti Si Non Non Mi Insultate Dai Non Lo So C'è Vabbè Dai Ve l'ho Detto Perché Non Ho Votato Messi Volete Che Metto Messi Ve lo Metto Basta Vi Metto Messi Ok Ne Invio Si Può Inviare Più Di Un Voto Aspettate Si Può Inviare Più Di Un Voto Io Invio Un Voto Commessi E Uno Con Bappé Non So Se Vabbè Si È Servito A Qualcosa Però Vabbè Si Un Voto Commessi E Uno Con Bappé Ho Inviato Due Voti Quindi Si Può Di Affari Vabbè Non Lo So Questa È La Mia Votazione Fate Conto Che Ho Messo Sia Messi Sia Bappé